La scuola è la scuola. I diritti che il 68 ci ha trasmesso. Ora è arrivato il momento di scendere in piazza tutti insieme. Questi ragazzi sono pronti a lottare per i propri diritti. Ce la faremo. Riusciremo a mandare via un governo tecnico che nessuno ha voluto. Riusciremo a riconquistare il diritto allo studio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La pubblica non ci tocca, la difenderemo con la lotta. La pubblica non ci tocca, la difenderemo con la lotta. La pubblica non ci tocca, la difenderemo con la lotta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.